rock rider st 530 s perché comprarla perché no allora io vi premetto subito che dopo pochi giorni l'ho sostituita con la st 900 s però effettivamente costa 400 euro in più capisco che non è proprio paragonabile ma qualche paragone si può fare perché la st 530 s per alcune cose l'ho trovata addirittura meglio della st 900 s per altre purtroppo no allora iniziamo con che cosa mi è piaciuto io l'ho acquistata perché ho visto dei video di dei recensori che ci facevano delle discese cose che magari io non sono neanche capace a fare quindi caspita allora sicuramente una buona bici si è una buona bici perché ha punti di forza iniziamo subito i freni i freni sono shimano e nonostante abbia i dischi da 160 sia davanti che dietro e frena meglio della st 900 s che hai il tetro e davanti a un disco da 180 quindi i freni assolutamente sì sicuramente sì la bicicletta pedala benissimo perché nonostante abbia un movimento centrale a perno quadro e non il perno passante come la st 900 s e comunque non ne risente pedale benissimo anche in salita è una bici molto piacevole per pedalare il telaio è buono sì le rifiniture non sono il massimo però la bici comunque fa la sua scena cioè è bella da vedere ci fanno i complimenti il manubrio è molto largo i comandi sono belli il cambio va benissimo ho sentito tanti dire a 1 per 9 non è sufficiente ma non è vero io col 1 per 9 ho fatto salite anche qui al parco salite importanti c'è di certo 1 per 9 per me è più che sufficiente non so dove devi andare ma poi pedali talmente veloce ma scendere farla piedi tra un po dipende anche dall'utilizzo che ne fate però se siete depro sicuramente non prendete la 530 s non la valutate niente perché l'ho data indietro la bicicletta perché me ne sono disfatto ho preso questa per le sospensioni le sospensioni il mono posteriore va beh era difettoso avevano riconosciuto il difetto me l'avrebbero sostituito ma comunque sballonzola a un ritorno che insomma si agisce molto sul precarico la indurisci un po comunque va bene ma la cosa più terribile sono le forcelle le forcelle che sul sito dicono essere idrauliche si magari avranno sicuramente una porzione idraulica una cartuccia idraulica forse per il blocco non lo so ma sparavano grasso di continuo da tutte le parti anche scaricate al minimo io peso quasi 82 kg col precarico al minimo comunque le forcelle erano dure lavoravano sì sullo sconnesso ok però non era una forcella scorrevole assolutamente non lavorava il ritorno era non regolabile ma non non era comunque c'era paragonabile a una vecchia zoom di 15 anni fa di forcella quindi per quello ho deciso di passare alla st 900 s a chi consiglio questa bicicletta che fino a settimana scorsa costava 499 euro mentre dal primo di febbraio decathlon ha aumentato i prezzi di 50 euro su tutta la gamma quindi adesso costa 549 euro se non vado errato e per 549 euro io secondo me ci sono prodotti migliori in giro è comunque se volete proprio quella perché comunque vi piace l'estetica accattivante tutto il resto posso consigliarla a chi piace pedalare perché è una bici che pedala molto bene la forcella abbastanza rigida e il mono posteriore comunque si è regolato in maniera corretta e si fanno percorsi anche sconnessi tipo cittadini dove l'asfalto non è perfetta dove magari c'è il pavè o quelle quelle strade a pietrine su giù dai marciapiedi la bicicletta è perfetta sentieri si può andare bene sentieri già quando iniziano ad arrivare magari le radici le cose un po più impegnative va bene ma insomma c'è questa forcella che continuerà a sparare fuori grasso finché ce n'è e niente quindi valutate voi se la st 530 s fa per voi soprattutto a quel prezzo e magari scrivete sotto se ce l'avete cosa ne pensate e ditemi un po voi